Il calcio è una festa! È una giornata veramente importante per noi perché vediamo veramente coronato un progetto al quale tenevamo veramente tanto. Dare la possibilità a questi ragazzi di portare avanti una passione come tanti loro coetanei è sicuramente una cosa molto bella. In più dare appunto anche un messaggio di carattere sociale penso che sia l'aspetto prioritario, quindi far capire che la Ferrapi Salò è vicina a questi ragazzi cercando appunto quello che è il nostro fine, cioè quello dell'inclusione sociale. Per me è un orgoglio diventare responsabile del settore giovane della Ferrapi Salò avendo al proprio interno anche un nuovo progetto come questo che sicuramente ha un'importanza soprattutto a livello sociale. Ti piace il gioco del calcio? Sì! Quanto? Tanto! E ti piacciono i leoni? Sì! Io tengo la Juve! Posso dirti una cosa? Quindi i leoni sono campionano a quattro zampe, quindi state bene attenti perché i leoni sono dei pezzi feroci, basta solo che non lascate da solo, deve stare lontani dai pezzi feroci. Chi in difesa va bene, giallo rosso romanista, è il pupo di Totti, tutti insieme noi. Dove c'è un attrezzo e c'è una passione e c'è una persona di mezzo tutto il resto è conseguenza, nasce tutto da lì fondamentalmente. Sicuramente lo sport è uno strumento, un mezzo importantissimo per superare le barriere. Penso che ormai la società sia pronta per l'inclusione totale e lo sport è sicuramente uno strumento importantissimo per ottenere questo. Chi fa questo vince tutto, dai l'ultima azione, guarda che squadrone, gioca con me, che ti importa del colore, il gioco del pallone. Ti piace il calcio? Sì. Quanto ti piace? Tanto. Sai che maglia stai indossando? De la Ferre Alpi. Chi è il tuo giocatore preferito? Il 9, non capisco più come si chiama il 9 della Ferre Alpi. Ma l'anno prossimo verrai allo stadio Turina a vedere le partite? Se riesco sì, forza Ferre Alpi salò! Grazie a tutti!